Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Benevento Monterosi. Siamo in diretta su 8 Channel, canale 16, in compagnia di mister Matteo Andrioletti. Iniziamo subito con le domande. Ivan Calabrese, 8 Channel, prego. Salve mister. Come ha vissuto la squadra questa settimana dopo la sconfitta pesante col Monopoli? E poi le chiedo, Berra, come sta? Se può giocare o se intende preservarlo per i prossimi impegni che saranno dei big match con gli USA Biabellino? Grazie. Sicuramente è stata una settimana lunga, una settimana che ho avuto anche un giorno in più giocando di lunedì ne avremmo fatto i volentieri a meno. Però credo che abbiamo analizzato come è giusto fare dopo una sconfitta sonora, capire bene cosa non è funzionato, capire bene cosa potevamo fare meglio. E quindi abbiamo lavorato cercando di limitare gli errori, cercando di andare a riprendere quello su cui noi siamo stati molto bravi. La squadra con grande umiltà e testa bassa ha lavorato molto bene in settimana, ci ha messo l'atteggiamento che poi però ci ha sempre messo da quando sono quasi sempre messo da quando sono qui a lavorare. E quindi una settimana positiva, una settimana dove è chiaro che nei primi giorni di allenamento il sorriso viene un po' a mancare perché un 3-0 comunque ti resta attaccato addosso, è fisiologico che sia così. Però al tempo stesso col passare i giorni all'avvicinarsi alla prossima partita c'è la voglia di scollarselo davvero di dosso, di non pensarci più, di pensare che sia un episodio singolo. Abbiamo bisogno di dare risposte quindi in questi giorni che si avvicinano la squadra è sempre più pronta per affrontare la prossima partita. Per quanto riguarda Berra sta bene, un giocatore ristabilito, un giocatore che praticamente ha completa disposizione, l'abbiamo gestito nei primissimi giorni della settimana ma negli ultimi ha fatto completamente l'allenamento intero e quindi un giocatore che ha completa disposizione sicuramente potrà essere utile nella partita di domani. Luigi Trusio, il mattino, prego. Sicuramente un po' come la settimana scorsa ti porti dietro un po' di dubbi. Nei vari reparti ce l'avrai sicuramente in difesa, al di là dell'impiego meno di Berra perché penso che tra Capellini e Teranova un dubbio ti è venuto. E poi anche negli altri reparti, forse solo a centrocampo dove hai un po' la coperta corta, hai qualche certezza? Davvero questa settimana certezze ne ho poche, eravamo anche fino a pochi minuti fa in ufficio a ragionare con lo staff sulle soluzioni e sono convinto che probabilmente nemmeno l'allenamento di rifinitura che faremo nel pomeriggio mi toglierà tutti i dubbi. Ne ho davvero tanti in ogni reparto e che questa è una cosa positiva perché vuol dire che comunque i ragazzi lavorano e li mettono in difficoltà e questo è l'aspetto sempre più positivo. I dubbi sono tanti, tantissimi, ripeto, sia nel reparto difensivo dove comunque anche nell'assenza di passi ne ho soluzioni per poter cambiare, con rientro di Berra bisogna fare delle valutazioni legate anche al minutaggio dei giocatori, capire chi potrà portare la partita a termine e chi potrà darci la mano subentrando. Per quanto riguarda il centrocampo è vero che non siamo numerosissimi però anche nell'ottica di cercare di essere sia qualitativi che strutturati che intensi le alternative ci sono, stessi dubbi che abbiamo anche nel reparto offensivo dove obiettivamente anche qui ho tanti giocatori di qualità c'è sempre la voglia di mettere in campo più qualità possibile cercando di vedere sia il lavoro settimanale che le precedenze settimane quindi davvero siamo tornati fortunatamente per quanto mi riguarda ad avere tantissimi dubbi. La partita di Monopoli questa settimana come l'hai spiegata, analizzata il video è evidente, tu stesso hai detto in conferenza stampa non c'è niente da salvare e quasi niente da raccogliere in prospettiva ma l'hai spiegata come un'opportunità da cogliere questo schiaffo e soprattutto in che termini ti aspetti una reazione? Mi dilungo magari un attimo però mi piace fare la stessa analisi che ho fatto con la mia squadra e mi piace essere onesto e sincero e riparto con le stesse parole che ho utilizzato con la mia squadra subito il giorno dopo la partita secondo me per analizzare questa partita ci sono principalmente tre modi il primo è quello magari più negativo, più catastrofista, è quello di pensare che tutto è negativo, è tutto sbagliato, non sta funzionando niente stiamo restando che siamo secondi in classifica, che venivamo da 12 risultati utili consecutivi e fino a ieri sera a parità di partita eravamo tre punti alla prima e quindi non penso sia la strada giusta quella catastrofista di contro non dobbiamo neanche fare un'analisi presuntuosa ovvero pensare che è un caso figlio della casualità, figlio che non è successo niente non è successo, abbiamo perso una partita 3-0 dove gli avversari non hanno avuto la meglio in praticamente tutti gli aspetti e quindi pensare che sia figlio della casualità non mi piace, non funziona e penso che non porti niente il terzo aspetto è quello su cui la terza analisi, secondo me quella più corretta quello che ho provato a far passare ai miei giocatori è quella del, credo sia la mentalità più vincente possibile sia quella di mantenere le certezze che abbiamo di non perdere, di tenercele strette ma al tempo stesso lavorare sugli errori di non ne abbiamo fatti tanti quindi ripartiamo da lì ripartiamo da un atteggiamento che deve essere sempre a 300 all'ora dove dobbiamo essere sempre super motivati dove non possiamo permetterci di sottovalutare nulla la partita domani da questo punto di vista deve darci delle risposte per capire se abbiamo imparato questo atteggiamento questa lezione perché quella di domenica secondo me è stata una lezione e lezioni, dalle lezioni secondo me devi crescere, devi imparare questo è lo spunto che mi porto via credo poi personalmente nel finale di gara in sala stampa ho avuto l'analisi da parte di un giornalista locale la migliore secondo me che possiamo portare via ovvero mi ha detto è un campionato secondo lui e condivido appieno super equilibrato dove qualsiasi squadra avrà dei momenti di difficoltà e mi dice secondo me la squadra che riuscirà ad avere i momenti di difficoltà visto che tutti ne avranno riuscirà ad uscire dai momenti di difficoltà con maggiore equilibrio avrà la meglio in questo campionato ecco io è un'analisi che fine a quello momento non avevo mai pensato ma credo sia un'analisi più importante da fare questo è un campionato difficile è un campionato dove ogni domenica ogni risultato è aperto davvero all'1x2 e quindi come tale può uscire di tutto e si può vincere due partite di fila ma si possono anche perdere due partite di fila speriamo non sia il nostro caso ovviamente però credo che la difficoltà anzi la differenza la faccia davvero chi riesce ad analizzare le difficoltà come la nostra partita con equilibrio non con catastrofismo come dicevo prima ma nemmeno con presunzione come ho analizzato precedentemente ci vuole equilibrio io lo devo avere noi lo dobbiamo avere penso che lo dobbiamo avere tutti se siamo equilibrati e non parlo di allenatore io solitanto ma parlo di ambiente se siamo equilibrati nelle valutazioni allora davvero possiamo fare un campionato da protagonisti è chiaro che se ci facciamo portare via dal vento da una sconfitta o da una brutta lezione secondo me diventa difficilissimo poi fare un campionato di alto livello Franco Santo il Corriere dello Sport prego buongiorno mister volevo chiedere al di là di un assetto tattico delle scelte potrebbe essere prezioso qualche avvicinamento anche sul piano psicologico senza stravolgimenti ovviamente come ha detto lei giustamente ma sicuramente sì sicuramente cercare di sfruttare ed è una valutazione che sto facendo è uno dei tanti dubbi che ho cercare di dare la chance magari a qualche giocatore che in questo momento ha avuto meno spazio ma chi ha spinto durante la settimana non per regalargli c'è perché secondo me in questo momento avere energie mentali diventa fondamentale diventa fondamentale soprattutto quando affronti questo tipo di partite dove la classifica potrebbe dire che è una partita facile ma il campionato assolutamente no e credo che chi ha avuto meno spazio chi meglio di quei giocatori può avere la mentalità giusta per vivere nel modo giusto una partita che sarà complicatissima una partita che un'altra volta ci troviamo a dire che dobbiamo affrontare bene venendo da una lezione forte e questa sicuramente è una valutazione che sto facendo ovvero quella di mettere giocatori che vivano questa partita come una finale perché domani è una partita davvero dove dobbiamo dare un segnale a noi stessi e al campionato e quindi quei giocatori sicuramente mi metteranno in difficoltà ripeto senza regalare nulla a nessuno se giocherà qualcuno che ha avuto meno spazio lo farà perché se lo sarà preso durante la settimana e questa sicuramente è una delle valutazioni che sto facendo a prescindere dalla dalla sua risposta volevo sapere se Ciciretti può essere però l'abbiamo visto in settimana era però era appena mercoledì l'abbiamo visto abbastanza bene se può essere pronto per entrare dal primo minuto anche non avendo ovviamente i 90 minuti questo era uno di quei giocatori del quale stavo parlando è uno di quei giocatori che che mi sta mettendo in difficoltà è vero che ieri ha avuto un leggero risentimento però spero non sia nulla di grave spero che sia a disposizione lo valuteremo oggi nel pomeriggio però obiettivamente credo che abbiamo bisogno anche di quei giocatori abbiamo bisogno di tutti chi domani davvero diventerà fondamentale l'aspetto di chi vivrà la partita come qualcosa di importante perché domani è una partita importante ripeto al di là della classifica è una partita in cui abbiamo assoluto bisogno di tornare ad avere le nostre certezze e la cosa più facile è quella di vincere la partita magari attraverso una prestazione di qualità Massimiliano Mogavero il Sannio Quodidiano prego buongiorno mister volevo chiedere se la partita con Monopoli lei l'ha analizzata e se ha smosso qualche certezza dal punto di vista tattico nel senso se al di là dei dubbi sui singoli se c'è qualche dubbio anche dal punto di vista dell'assetto se pensa di rivedere qualcosa o se invece continua a ritenere che quella seguita finora sia la strada giusta da percorrere ma io credo come dicevo prima nell'ottica di avere una valutazione di equilibrio che non si possa poi stare a stravolgere troppo per una partita sicuramente in quella partita tutto è andato male e quindi a quel punto non si può stravolgere tutto sicuramente però come dicevo prima per non avere una lettura presuntuosa è giusto mettersi in discussione è giusto capire cosa non è funzionato e quindi anche in settimana qualche accorgimento diverso lo stiamo provando perché sicuramente avere una maggiore imprevedibilità avere una maggiore mobilità ci può magari togliere un po' di certezza l'avversario e renderci meno leggibili questo lo stiamo facendo è una cosa che stiamo valutando sicuramente potremo anche utilizzarla già da domani però ripeto senza andare a stravolgere l'identità di questa squadra perché davvero vorrebbe dire non avere equilibrio andare a toccare qualcosa che perdonisce i partiti consecutivi ha funzionato vorrebbe dire non avere una lettura del percorso equilibrata fermo restando ripeto che è giusto mettersi in discussione e se si possono trovare dei piccoli accorgimenti per mettere i giocatori nei loro ruoli più funzionali o comunque nelle posizioni di campo migliori per essere sfruttati questo lo faccio quotidianamente l'ho sempre fatto e lo farò anche questa settimana Augusto Serino anteprima 24 prego Salve mister c'è un avversario di cui tener conto è un Monterosi che con Taurino ha cambiato un po' registro ha arrivato una vittoria che avversario si aspetta e poi giusto una curiosità lei ha parlato della classifica prima eravamo a tre punti adesso la Juve Stabia è allungata se questo vi mette quel pizzico di pressione in più ma ci siamo trovati praticamente sempre quest'anno a giocare dopo gli avversari e questo ma non voglio piangere il mio dosso mi conoscete ormai sapete che non lo faccio praticamente mai però ovviamente è un po' di pressione innegabile che te lo metta anche se poi sinceramente piuttosto che giocare prima e poi gufare preferisco essere padrone del mio destino e giocarmi la partita sapendo che ho bisogno di vincere quindi comunque vada non giocando tutti in contemporanea chi gioca prima chi gioca dopo un minimo di scompenso ce l'ha sempre ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita non pensare a Juve Stabia non pensare a Lavellino perché l'avversario di domani si chiama Monterosi ed è un avversario che merita il massimo rispetto non solo perché ha vinto una partita domenica importante in uno scontro diretto e quindi avrà la massima fiducia ma perché è una squadra che se andiamo a analizzare un po' il percorso che ha fatto nelle trasferte contro le bighe di questo campionato ha sempre messo in difficoltà perché poi non voglio tornare al discorso al Giuliano con il quale abbiamo pareggiato e poi domenica ha fatto vincere 3 a 1 ma il campionato dice questo che ci sono delle squadre che affrontarli in certi momenti della stagione è diverso che affrontarli in un altro oggi arriva un avversario che ha giocato a Cortone ed era 1 a 1 ha preso gol nel finale rimanendo in 10 è andata da Lavellino era 1 a 1 e ha preso gol anzi è andata in vantaggio poi 1 a 1 e poi ha preso il dono nel finale quindi è una squadra che la storia e il suo percorso dice che quando ha affrontato campi importanti e squadre importantissime le ha sempre messe in difficoltà quando giocavano sul loro campo quindi per loro in trasferta spero che domani non sarà così ma sicuramente affrontiamo un avversario che non verrà qui a regalarci nulla perché ha bisogno di punti come abbiamo bisogno noi visto che poi chi oggi è in testa della classifica ha vinto e non vogliamo cercare di fare in modo di non staccarci Claudio Donato Pianeta Azzurro salve mister le volevo chiedere questa è la partita diciamo più brutta del campionato non so se è d'accordo perché arriva un avversario con una mentalità libera non ha nulla da perdere andiamo a Benevento a giocare la nostra partita si sa che possiamo perdere mentre ci avevamo fatti forse un po' la bocca buona in tanti non tutti dopo una striscia di risultati positivi io le chiedo dal punto di vista proprio della reattività della squadra dal punto di vista proprio mentale è d'accordo che questa è una delle partite più difficili che può restituire al Benevento anche non so una certa consapevolezza per quanto riguarda sia la gestione di certe pressioni perché è inevitabile che è una gara che dà certe pressioni perché se non la vinci succede tutto quello che ci aspettiamo insomma che è anche da virgolette normale però anche dal punto di vista della personalità della squadra può misurare può essere un elemento una vittoria può essere un elemento di misura di personalità della sua squadra non so se è d'accordo su questo grazie sì ti dico per quanto riguarda le pressioni io credo che a noi non sono mai mancate perché obiettivamente le aspettative nostre verso i nostri confronti ovviamente anche dall'esterno di conseguenza sono sempre che il Benevento deve andare a vincere su ogni campo ma ci stiamo accorgendo e spesso lo sappiamo tutti di quanto sia complicato andare a vincere in questo campionato in questo girone quella di domani è una partita importante è una partita in cui ho l'obbligo in quanto responsabile tecnico della squadra ho l'obbligo di far passare bene il messaggio che non sarà una passeggiata che se entriamo con un atteggiamento superficiale rischiamo di farci del male quello che mi aspetto domani è chiaro di provare a vincere questo mi sembra scontato ma credo sia veramente di conseguenza dell'atteggiamento che avremo l'abbiamo sbagliato pochissime volte credo Monopoli forse è una delle prime se non la prima in assoluto quello che non dobbiamo permetterci di fare è quello sbagliare l'atteggiamento quello di essere superficiali quello di pensare che perché indossiamo una maglia gloriosa o perché siamo dei giocatori o perché abbiamo una rosa importante che abbiamo vinto semplicemente prima di scendere in campo non è così domani sarà complicato abbiamo sicuramente bisogno del nostro pubblico perché sia la prima difficoltà che avremo liberi di fare ognuno quello che pensa però se avremo dei fischi è chiaro che non ci aiuteranno dovremo cercare di superarli da soli sono convinto che il pubblico di Benevento sia un pubblico maturo e anche domani come ha sempre fatto ci aiuterà ci sosterrà ne abbiamo bisogno ne abbiamo assoluto bisogno perché domani non saranno passeggiate quindi se avremo grande maturità se avremo grande umiltà e se saremo tutti uniti non solo all'interno della squadra ma anche all'esterno con tutto lo stadio sono convinto che sarà tutto più facile in una partita sono d'accordo complicatissima Roberto Corrado Cronache del Sannio prego mister buongiorno io non metto assolutamente in discussione quanto di buono fatto dal Benevento finora al di là della sconfitta di Monopoli torno però sulla sconfitta di Monopoli dove a fine partita sono stato un po' forse eccessivamente critico e le chiedo quanto dobbiamo ancora attendere per una partita perfetta dal Benevento per voglia attaccamento cattiveria un po' come quella fatta dal Monopoli contro di noi dal primo al novantesimo grazie guarda colgo un po' la tua domanda per fare un'analisi sulla settimana io credo che quando perdi 3 a 0 devi avere l'umiltà parlo per me devi avere l'umiltà di stare zitto devi avere l'umiltà di accettare tutte le critiche che arrivano perché quando perdi 3 a 0 non c'è tanto da chiacchierare c'è da stare muti e lavorare tanto a testa bassa poi credo che il compito sia quello di analizzare tutte le critiche che vengono fatte ne sono arrivate molte come è giusto che sia e io ci metto sempre la faccia la metto anche soprattutto quando le partite non vanno bene credo che il mio compito a quel punto sia discernere tra le critiche costruttive e quelle non costruttive e all'interno di quelle costruttive analizzare quelli che possono essere degli spunti importanti quindi da parte mia avete la massima tranquillità di fare qualsiasi domanda ci mancherebbe altro ma soprattutto accetto tutte le critiche e soprattutto dopo un 3-0 perché è giusto che chi fa il vostro lavoro critichi una squadra che ha fatto una brutta partita e ha perso 3-0 quindi da parte mia avete la massima disponibilità a rispondere sempre per quanto riguarda la perfezione è qualcosa che ogni allenatore rincorre quotidianamente sapendo che a volte è un po' un'utopia perché la perfezione non arriva quasi mai quello che mi aspetto domani ripeto non è tanto una partita dal punto di vista tecnico perfetto perché obiettivamente non sarà semplice per le condizioni in cui arriviamo ripeto da una brutta sconfitta in una partita dove qualcuno ha detto bene l'avversario ha sì da perdere ma sicuramente meno di noi quello che mi aspetto è una partita perfetta per quanto riguarda l'atteggiamento perché ne abbiamo assoluto bisogno di dare una risposta sia perché la partita richiede questo sia perché la sconfitta precedente ci deve essere da lezione ne parlavo prima di quella famosa lezione dobbiamo dare una risposta sicuramente al pubblico sicuramente ai tifosi ma soprattutto a noi stessi che non siamo quella squadra che ha giocato a Monopoli che siamo la squadra che ha giocato le 13 partite precedenti ci metto anche la partita del Greco dove abbiamo perso non solo perché abbiamo vinto se no ci limitiamo alle valutazioni se si vince o si perde quindi domani sarà la partita perfetta non credo perché non faremo mai una partita perfetta per quanto riguarda le mie analisi dove dobbiamo essere perfetti domani nell'atteggiamento in umiltà questo me lo aspetto Gianluca Napolitano scorriere del pallone prego io faccio un passo ancora più indietro la partita col Giuliano io ho avuto l'impressione poi insomma mi corregga se sbaglio dopo il vantaggio come la squadra si fosse un po' cullata poi siamo ripassati in vantaggio gli è mancata la gestione della partita perché insomma 2-1 a 10 minuti dalla fine va gestita anche la partita però noi in campo la escludo un poco a lei come allenatore al di là dell'allenatore che ha la sua importanza però noi in campo abbiamo credo dei giocatori importanti perché insomma la rossa ce lo dice che potrebbero fare di più secondo me sotto questo aspetto ecco non so se questa è una valutazione anche che ha fatto in settimana perché insomma avere giocatori che lei poi non toglie dal campo credo anche per quello come Agazzi in Prota dovrebbero anche aiutare semmai un po' con i più giovani a gestire determinate situazioni questa è una prima diciamo considerazione e poi insomma lei viene un poco additato come il fatto di essere un po' non troppo eccessivamente diciamo offensiva ecco ne metta questa questa parola ecco non so se nella settimana è stata fatta anche questo tipo di valutazione soprattutto in casa forse insomma anche il pubblico probabilmente si aspetta un venimento più più aggressivo più garibaldino cosa che l'abbiamo visto a sprazzi in alcune gare insomma questo volevo un po' queste due considerazioni allora parto dalla seconda io sono giovane ma credo sia questo il nono anno che alleno i grandi le prime squadre sono sette anni di due e dodici e penso non mi sia mai successo ma mi fa piacere vuol dire che sono migliorato penso di non essere mai stato additato come difensivista lo sono diventato non lo so ma mi fa piacere io l'ho già detto questo aspetto credo che il compito di un allenatore sia quello di valorizzare al massimo il materiale umano che hai e il mio compito come ho sempre fatto è questo se penso ora è vero che facciamo quasi sempre sedute a porte chiuse però se andiamo ad analizzare fatto 100 il nostro lavoro in campo penso che 90 sia sull'aspetto del possesso palla e 10 su quello del non possesso quindi lavoriamo tanto su quello e ci crediamo tanto è vero obiettivamente che possiamo lavorare meglio possiamo essere più propositivi come ho già avuto modo di dire però non solo il numero di attaccanti in campo che qualificano la manovra la rendono più o meno offensiva quello che dobbiamo migliorare è essere più qualitativi essere più bravi nelle rifiniture essere più bravi a chiudere le partite perché penso che questa squadra a parte qualche l'occasione ha sempre creato parecchie occasioni da gol spesso non siamo stati bravi a realizzarle quindi dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'essere cinici però obiettivamente credo che questa squadra abbia bisogno questa categoria non questa squadra abbia bisogno di equilibrio lo continuo a ripetere e quindi dobbiamo essere bravi nelle ultime partite siamo stati non bravi ad avere equilibri non possesso per assurdo quindi se dobbiamo ripartire da qualcosa avere una stabilità difensiva importante perché poi abbiamo giocatori nel reparto offensivo secondo me quando parlo di reparto offensivo non parlo solamente di attaccanti ma di chi si trova in quelle condizioni che possono sviluppare e fare gol da un momento all'altro quindi ripartiamo da essere una squadra quadrata perché poi davanti qualcosa siamo in grado di fare e poi se saremo bravi a farlo con più qualità e con più continuità e con più convinzione sono convinto che sarà sicuramente vedremo anche vittorie più larghe o sicuramente più convincenti per quanto riguarda il primo aspetto ricordami scusa io anche qui sono sempre abituato a vedere cosa posso fare di meglio io e quindi quando vedo una squadra come abbiamo fatto qualche volta non gestisce bene un vantaggio mi metto in discussione su cosa potevo fare io di meglio ma non solo a livello di cambi parlo anche a livello di atteggiamento magari dare un po' più di tranquillità o al tempo stesso alzare maggiormente la voce sono abituato a ragionare su cosa posso fare meglio io poi è chiaro che se sei supportato ma io ho la fortuna di esserlo di essere supportato da giocatori in campo di esperienza che hanno l'atteggiamento giusto la parola giusta verso se stessi verso i compagni anche quelli più giovani è chiaro che diventa tutto più facile anche il mio compito però ripeto sono sempre abituato a mettere in discussione me stesso prima che gli altri Augusto Serino Anteprima 24 prego due curiosità che te ne leggo la prima è devi fare i conti con la scodifica di Pastina chi ha al di là di Berra delle condizioni chi vedi come alternative in quel ruolo e poi se stai facendo anche un pensierino sulla gestione dei diffidati visto il dicembre che aspetta la strega ma no sinceramente non sto facendo conti diversi da quelli che sono la partita di domani perché vorrebbe dire fare quell'errore di cui parlavo prima vorrebbe dire sottovalutare questa partita e noi non possiamo permettercela quindi la formazione che metterò in campo domani della quale ancora adesso ho parecchi dubbi e poche certezze sarà la migliore per vincere la partita di domani senza stare a fare conti e conticini perché non mi interessano in questo momento dobbiamo vincere pensare a vincere domani mettendo in campo i giocatori più adatti per farlo per quanto riguarda l'assenza di Pastina è un giocatore che oggi è diventato importante mi fa piacere che lo riconosciate però i giocatori per sostituirlo è chiaro che come dicevo prima la valutazione oggi sui quattro difensori che oggi reputo potenziali titolari Tolto Pastina è fatta un po' sul minutaggio ne accennavo prima ne parlavo prima della domanda precedente so che magari far giocare se intanto non dire stare a fare discorsi o finte cioè far giocare il terreno dall'inizio non so se ha 90 minuti e quindi nell'ottica di rientro di Berra di avere Cappellini di avere il Kawa Kivi c'è Viscardi che però è un ragazzo giovane è chiaro che devo fare delle valutazioni che portano a e questo vale per tutti i reparti a mettere in campo una formazione competitiva dall'inizio ma sapendo che la partita dura 90 minuti quindi fare una valutazione sia su chi partirà ma soprattutto anche su chi subentrando potrà chiudere la partita nei migliori dei modi Claudio Donato Pianeta Azzurro prego Mister volevo rilacciarmi alla domanda del collega Corrado sulla perfezione ma al di là della perfezione questo tipo di gare che si annunciano un po' sporche chiuse come si può cercare di vincerle? Avete studiato il Monterosi che cosa ha detto ai suoi ragazzi? Magari vi siete focalizzati sui duelli da vincere che cosa ci può dire non per aiutare gli avversari che cosa chiede alla sua squadra in modo particolare in questo tipo di gara? Queste partite secondo me sono complicate per un motivo da questo punto di vista abbastanza semplice perché devi da una parte avere l'aggressività l'intensità perché ne hai bisogno per non superire l'avversario che sicuramente ci metterà tanta gara e tanta determinazione quindi se non pareggi quell'aspetto diventa difficile far partita al tempo stesso e sembra quasi uno simolo sembra qualcosa che vada contro devi avere grande tranquillità e razionalità quando hai la palla perché se ti fai prendere dalla foga dalla voglia di vincere la partita nei minuti iniziali e non lo fai puoi rischi avere un po' di smarrimento quindi da una parte le difficoltà di domani saranno queste ovvero avere grande vemenza e determinazione per pareggiare quelli degli avversari ma al tempo stesso grande tranquillità e lucidità di capire che se non sei in vantaggio subito se capita un episodio sfortunato c'è tutto il tempo e le qualità per andare a riprenderlo questo secondo me è uno degli aspetti più importanti per la partita di domani Luigi Trusio il mattino a te che piacciono un po' anche i numeri piacciono anche a me il Benevento è secondo in classifica ma probabilmente a conti fatti è la squadra che forse ha ricevuto di meno in termini concreti dai calciatori di maggiore fantasia e qualità voi ne avete quattro ne possiamo annoverare tra Ciciretti Ciano Bozio ci metto dentro anche Teglio che comunque nelle prime partite ha giocato e comunque a disposizione hanno prodotto in quattro un gol e due assist e quindi un contributo estremamente scarno rispetto a quelli che invece hanno avuto le altre squadre ecco ti aspetti probabilmente in questa partita quel qualcosa in più che possa come dire rappresentare quello step che vi serve oggi per avere delle certezze da leader grazie io ho il mio modo di ragionare lo so che potrà sembrare strano e potrà essere non lo so però provo sempre a essere coerente con me stesso con il modo di affrontare la mia professione credo che da allenatore oggi analizzare e dire Ciano non ha fatto gol sia molto semplicistico il mio ruolo impone una valutazione diversa impone dire perché Ciano non ha ancora fatto gol cosa posso fare io da allenatore per mettere nelle condizioni Ciano di Ciano Bolsus Ciretti Ciano perché è il primo che mi viene in mente e quello magari da cui ci aspettava anche dal punto di vista realizzativo qualcosa in più la valutazione mia non è questa è cosa posso fare io per la mia squadra è fare in modo che quei giocatori rendano al meglio e quindi cercare magari di avvicinarli maggiormente alla porta cercare di fargli arrivare la palla un pochino più pulita magari tra le linee cercare di sfruttare meglio i calci piazzati se penso a Ciano cercare di svincolarli un po' da certi schemi più stabiliti cercare di dargli un po' di imprevedibilità queste sono le valutazioni che a me piace fare nel mio ruolo piuttosto che star ad analizzare perché Bolsus ha fatto solamente un gol ecco questo non mi piace un modo di ragionare che non mi appartiene ma come dicevo prima mi piace pensare cosa posso io da allenatore fare per mettere i miei calciatori nelle condizioni quindi se oggi Ciano Bolsus Ciciretti e lo stesso Teio non hanno dato ancora il contributo la responsabilità dell'allenatore che non li ha ancora messi nelle condizioni per esprimersi al massimo bene la conferenza stampa termina qui grazie mister buona domenica a tutti grazie a voi grazie a tutti